452 chilometri di strade provinciali passano sotto la gestione diretta dello Stato e quindi di Anas con un risparmio per la manutenzione per le casse degli enti locali di circa 28 milioni e mezzo di euro. Lo stabilisce lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda la revisione della rete stradale sia statale che provinciale in diverse regioni italiane. Attualmente la rete di competenza delle province abruzzesi si estende per un totale di 5.900 chilometri su cui ormai è diventata pressoché impossibile la manutenzione a causa della scarsità dei fondi a disposizione degli enti locali. Assi viari che conducono a giacimenti turistici di montagna saranno di competenza di una grande azienda che in nome dello Stato e con i fondi dello Stato fa la manutenzione, la pulizia della neve e gestisce tutto ciò che assicura la scorrevolezza, la certezza dello spostamento quando si ha bisogno di raggiungere qui o lì delle distanze abruzzesi. Dichiaro qui che accanto a questi 457 chilometri di strade da domani ricomincio a lavorare per fare in modo che la strada Silviatri SS81 e la strada Fossacesi-Alanciano entrino con pari dignità nel pacchetto delle strade statali per le stesse caratteristiche che il codice della strada rileva per le strade che devono essere statizzate. Il presidente D'Alfonso ha anche riaffrontato il tema del caro autostrade soprattutto a riguardo della 24 e della 25 tra le più care d'Italia. Per abbassare i costi, dice D'Alfonso, bisogna aumentare l'utenza. Beh no, ho dichiarato che se noi facciamo in modo che aumenti l'utenza la tariffa di accesso al sistema autostradale può scendere perché c'è un problema che in Abruzzo la tariffa è particolarmente elevata dobbiamo operare o facendo in modo che i lavori di manutenzione non gravino sulla tariffa o aumentando il numero degli utenti.